Terza lezione dedicata a Leibniz e devo affrontare lo spinoso, non nel senso di spinosa, problema della libertà, del male, il problema della teodicea, il problema del migliore dei mondi possibili. Quindi Leibniz è obbligato a dover affrontare il tema della libertà nel mondo a partire dalla sua teoria delle monadi. Infatti l'uomo e Dio sono liberi se tutto ciò che diviene e si determina è uno sviluppo necessario delle monadi, cioè se le monadi di fatto hanno uno sviluppo necessario a partire dalla loro struttura, tutto ciò che divengono è necessario, qual è il posto che occupa la libertà all'interno di tale mondo? Per affrontare questo problema, questo dilemma, Leibniz comincia a fare una distinzione, un'estinzione importante tra ciò che appunto è reale e ciò che è appunto pensabile. Secondo Leibniz il pensabile ha a che fare con il possibile, il pensabile rimanda al possibile, ciò che è pensabile è possibile e il possibile appartiene alla sfera del pensabile. Pertanto il possibile è ciò che è pensabile significa che nella sfera logica delle possibilità può esistere A e non A, può esistere B e non B. Nella sfera del pensabile e del possibile, da un punto di vista logico, esistono appunto le contrarietà o anche le contraddittorietà. sono appunto pensabili. I fatti espressi dalle verità di fatto, le fattualità, le verità di fatto, sono possibili e se sono possibili, se rimandano al possibile, contengono ovviamente la possibilità della diversità, contengono l'alternatività rispetto appunto a quella determinata fattualità. E dunque, e dunque, logicamente, sono possibili, pensabili dunque, sono pensabili mondi diversi, sono, dice, compassibili, ci sono diversi mondi possibili, i mondi diversi, anche diametralmente opposti, sono compassibili, sono compassibili. Dunque, di fronte alla possibilità del pensabile, al pensabile della possibilità, si aprono, si stagliano mondi diversi, ma, 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 ci dice Leibniz, Dio, tra tutti i mondi pensabili, tra tutti i mondi dunque possibili, perché il pensabile rimanda al possibile, Dio, tra tutti i mondi pensabili, ha poi scelto, ha realizzato il migliore. Dio ha realizzato il migliore dei mondi possibili, cioè quello in cui vi è la maggior unitarietà, quello in cui vi è la maggior coerenza, quello in cui vi è la maggior armonia. Leibniz è un teorico dell'armonia in ambito metafisico, le mondi costruiscono un mondo ordinato e armonico, in ambito cosmologico e fisico, Dio, come grande orologiaio, che ha costruito e scelto il migliore degli orologi e dei mondi possibili, lo sarà poi anche, teorico dell'armonia, Leibniz in ambito politico, perché è un teorico non del superstato europeo, ma di una politica di equilibrio tra diverse potenze europee. Dunque Dio, nella sua mente e dunque nella sfera del pensabile, e Dio onnipotente può pensare a tutto, ogni possibilità è pensabile da Dio, la mente di Dio ha tutte le possibilità pensabili, ebbene Dio nella sua infinita possibilità pensabile, nelle sue infinite possibilità pensate, sceglie il migliore dei mondi possibili, tra i diversi mondi, mondi che sono impossibili, possibili tutti, sceglie il migliore, quello più armonico, quello più ordinato, quello più unitario, quello che presenta anche una varietà, una diversità, ma nell'armonia, e dunque il mondo in cui vi è il minor dei mali e il maggiore dei beni. Il mondo teorizzato da Leibniz è dunque il migliore dei mondi possibili, quello più unitario, quello più armonico, quello ordinato, quello più vario ma coeso, quello con il minor numero di male, con la minor presenza di male, con il maggior numero di bene, con la più grande possibilità dunque di bene che si è realizzata. Il mondo in cui era il maggior bene e il miglior in cui era il minor bene è quello che Dio ha pensato e che dunque ha realizzato, ne ha pensati infiniti. Sono tantissime le possibilità, sono infinite nella mente di Dio e tra le infinite possibilità di Dio, tra gli infiniti mondi, diversi mondi, pensate a Dio, Dio ha poi scelto il migliore. Dunque l'uomo vive nel migliore dei mondi possibili. Dunque c'è in questo mondo ovviamente ora il problema della libertà. Che spazio ha la libertà dell'uomo? Quanta libertà ha l'uomo in questo mondo? Beh gli uomini in questo mondo sottostanno ad una necessità metafisica, cioè questo mondo diviene, a partire dalla struttura delle monadi, come deve divenire. Cioè ci sono delle leggi della logica, delle leggi logiche intrinseche alle monadi che si sviluppano, che si diramano come debbano diramarsi. Dunque c'è una struttura complessiva dell'universo, logica, una struttura logica complessiva dell'universo che è strutturata intorno alle monadi che è necessaria, questo mondo dunque è necessario metafisicamente. Tutti i fatti dunque sono logicamente regolati e armonizzati. Ma a fianco questa necessità metafisica avviene un'altra, una necessità morale. La necessità morale indica che cosa? L'uomo che deve compiere il bene, deve compiere l'azione del bene, deve armonizzarsi all'ordine metafisico delle monadi, all'ordine del miglior dei mondi possibili di Dio, scelto da Dio. Ma questo mondo di necessità metafisica, logica delle monadi del cosmo e in questo mondo di necessità morale, di adeguarsi al bene, compiere il bene, fare il bene, muovere la sensazione dell'ordine, l'armonia divina, l'uomo è pur comunque libero. Cioè è anche libero di scegliere altri mondi e altri modi di stare al mondo rispetto appunto quello divino, quello armonioso. Perché? Perché ovviamente l'uomo può anche non compiere, non compiere le azioni, le scelte, i gesti in direzione dell'armonia divina, del mondo migliore possibile. Ma dunque, chiaramente qua rimarrà una poria, è il mondo migliore possibile anche se l'uomo può essere libero di non fare il bene? Certo, perché questo è il mondo più ordinato dentro cui l'uomo ha comunque la libertà. E negli altri mondi possibili sarebbe stata comunque la disarmonia più elevata. Il miglior dei mondi possibili è il mondo in cui l'uomo ha una necessità morale di compiere il bene, ma può anche decidere di non compiere. Dunque è quasi un'indicazione morale, una spinta morale. Se l'uomo non la compie, ovviamente rimane aperto alla possibilità della libertà, ma in questo caso la libertà del male, di allontanarsi dall'ordine del migliore dei mondi possibili scelto, realizzato da Dio come grande orologiaio del mondo, grande orologiaio dell'universo. Questa doppia necessità che regola la vita dell'uomo, necessità metafisica e necessità morale, non è presente in Dio, perché Dio non è necessario. rovescio dal parte della teoria del passato in cui la libertà di Dio è una necessità, la sostanza spinosiana che appunto è Dio, con cui dico natura, è una sostanza che necessariamente diviene come deve divenire. Dunque è un Dio necessario quello di Spinoza. Qua invece Dio è libero, ci dice Leibniz, è un Dio libero perché la libertà è possibilità, è una potenza e dunque Dio ha questa possibilità, ha questa potenzialità. Dio avrebbe potuto scegliere tutti i mondi, avrebbe potuto scegliere tra tutti i mondi possibili quello appunto che voleva, ma ha scelto questo mondo che è il migliore dei mondi possibili perché è buono, perché è moralmente obbligato a scegliere il migliore. Lui è obbligato moralmente. Dunque l'uomo non è obbligato moralmente, Dio è obbligato moralmente. Dio è libero nell'attività del pensare, nell'attività di essere grande orologiaio, ma poi non è libero nella realizzazione di qualunque mondo possibile, perché è un obbligo morale, e l'obbligo morale è quello del bene, di costruire un mondo intorno al bene. È un obbligo morale. Dunque è moralmente obbligato a scegliere il migliore dei mondi possibili. Dunque Dio è il responsabile del male nel mondo, se comunque ha scelto questo mondo, dicendo che è il migliore dei mondi possibili, il male c'è. Se non arriviamo al male nel Novecento, non mettiamoci di fronte alle catastrofi politiche del Novecento, rimaniamo per non desnaturare il pensiero di Lehmann, rimaniamo al mondo di Lehmann. Il male c'è, e il male può essere la guerra, può essere la violenza, possono essere le epidemie, possono essere gli eventi cataclismatici come il terremoto di Lisboa nel 1755. Allora, ma il mondo di Lehmann, il migliore dei mondi possibili, come si rapporta alla catastrofica situazione europea del 1755 del terremoto di Lisbona? Questo mondo è comunque il mondo migliore e il migliore dei mondi possibili? Sì, ci risponde. Perché? Perché quello è un ordine naturale, un fenomeno naturale e se c'è quel fenomeno naturale perché comunque ci deve essere ed è quello migliore che possa esserci. In un altro mondo sarebbe stato più grave il terremoto, più grandi le catastrofi, l'equilibrio naturale che c'è in questo mondo è comunque il migliore degli equilibri naturali, biologici possibili. Per quanto concerne invece non il male naturale, il terremoto, lo tsunami, ma per quanto concerne il male morale o il male politico, la responsabilità accade è dell'uomo, dunque le cose accadono per responsabilità dell'uomo. Dunque il male naturale è il minore dei male naturali possibili. Noi ci possiamo dire ma veramente se c'è un terremoto, ma ho costruito delle case con dei materiali, della calce mescolata alla sabbia, come la casa d'ospedale o del convinto per studenti dell'Aquila, c'è del male politico, perché chiaramente se io costruisco male per risparmiare, per speculare delle abitazioni, è chiaro che c'è anche una responsabilità, raggiunge il terremoto, che è un fenomeno naturale, non vengono scaricate queste scosse, c'è un ritorno di energia in equilibrio da parte del mondo, ci sono le placche che si muovono e si portano appunto a una situazione di frizione, ebbene, se tutto ciò è accaduto per il male naturale, non è naturale che la casa cadesse perché è costruita con dei pessimi materiali. Dunque il male morale è dove c'è la libera scelta dell'uomo di compiere il male, il male politico è il male dove c'è la libera scelta dell'uomo di fare del male politicamente, torturare, uccidere, ma il male naturale è il minore dei male naturali possibili perché Dio ha scelto il migliore dei mondi possibili per noi uomini. Questa teoria del migliore dei mondi possibili, esplicata poi nei saggi sulla teodicea da Leibniz, è profondamente criticata da Voltaire, con la penna brillante di Voltaire, il quale dedicherà appunto al tema un'opera brillante e sferzante come il Candir. È proprio un'opera ironica che vuole rovesciare la teoria del mondo migliore, del migliore dei mondi possibili elaborata da Leibniz. Magari poi indicheremo una lezione intera al Candirci. Già sul canale si è trovata una lezione in corpore su il tema della tolleranza, della guerra e delle religioni nel pensiero appunto illuministico, sarcastico, ironico e brillante di Voltaire. Ecco dunque il tema della libertà e del male. La libertà in questo mondo ce l'ha innanzitutto Dio che ha la libertà di scegliere tra molti mondi quello che preferisce, ma sceglie il migliore dei mondi possibili perché Dio però ha un vincolo, ha un'obbligatorietà morale che si chiama il bene. L'uomo invece vive in un mondo in cui tutto avviene in maniera logicamente necessaria connessa a struttura e a evoluzione delle monadi, ma questo uomo ha la possibilità di una libertà morale, ha un vincolo morale, ha una necessità morale che lo spinge, che lo guida, che lo attrae, ma l'uomo può di fatto allontanarsi e compiere quello che è il male morale e il male politico, cosa che invece Dio non può fare, Dio non può compiere il male morale e il male politico perché Dio è moralmente buono e il male naturale che c'è è il minore dei mali possibili, dunque questo è il migliore dei mondi possibili. Dunque è un orologiaio buono, è un architetto buono, è un geometra buono, è un orologiaio buono, è un architetto, un orologiaio, un muratore, se vogliamo, un ingegnere, le scale, poi i titoli di laurea o di diploma che vogliamo dare a Dio possono variare, ma Dio è demiurgo, fabbricatore, è il miglior fabbricatore possibile, cioè quello che ha pensato era di infinite possibilità, ma da tutte le pensieri che compie Dio, che fa Dio, sceglie di realizzare il pensiero, dunque, migliore per l'intero universo. Torniamo però un elemento di Dio come volontà, come volontà buona, come volontà buona, perché ci dice che è obbligatoriamente vincolata una scelta morale buona. Questa è la riflessione sulla teodicea, sul migliore dei mondi possibili in Leibniz, questo è il tema del male e della libertà in Leibniz. Tale tema è in parte superato, oggi non è più un dibattito all'ordine del giorno, anche se lo tsunami dei primi anni 2000 ha riportato ancora il tema se questo fosse il migliore dei mondi possibile, se il male fosse una punizione dunque di un Dio per l'immoralità dell'uomo. Noi oggi non siamo all'interno di questo dibattito, sappiamo che il male è in gran parte figlio chiaramente della natura umana, della posizione della natura umana, anche di scegliere, dunque la riflessione da Socrate a Platone, si va a Leibniz e funziona, la canto, ovviamente tutti gli altri teorici della morale successivi, cioè il tema è la responsabilità dell'uomo, l'uomo è responsabile delle azioni morali, politiche e combi per quanto riguarda la natura, io ricordo sempre la posizione di Spinosa, la natura fa il suo corso, poi l'uomo la giudica benigna o maligna in base a quelle che sono le proprie lenti, i propri occhi, le proprie angolature, ovviamente se il terremoto si abbatte sul mio villaggio è tentativo di dire perché, cosa ho fatto, cosa è successo, qual è il fine di tutto ciò, Spinosa ci ha detto che non c'è nessun fine e che la natura ha fatto soccorso, l'energia si è accumulata, è stata scaricata e tu hai costruito lì il tuo villaggio, la tua casa. Ma anche Leibniz, che è in posizione molto diversa da Spinosa, però ci direbbe alla fine che effettivamente non è il male naturale, quello è il corso di una natura che rimane benigna, tutt'altro che maligna. Siamo dunque lontani qua, anni luce, da poi la teoria di Schopenhauer, Leopardi, una teoria appunto in cui la natura così benigna non è, anzi, per Leopardi è maligna e per Schopenhauer è cieca ed egoista. Era la terza lezione dedicata a Leibniz, magari ci tornerò un autore che mi sembra mi stia comunque piacendo, ci tornerò magari con delle letture, con degli approfondimenti. Buonasera a tutti, a domani con i nuovi video, pomeriggio a casa o nell'orebook a scuola, continuerò a fare dei video perché le vostre richieste sono tantissime, io cerco di esaudirle nei limiti del mio tempo. Buonanotte, buonasera.